Ciao Chicca! Ciao! Come va? Bene. Tu? Sì. Chicca, giochiamo? Il super enalotto! Sì, giochiamo, giochiamo. Allora, dimmi sei numeri per il pannello A. 90. La paura? 25. Il Natale? 4, 73, 60 e 42. Il caffè? Allora, adesso altri sei numeri per il pannello B. 1, 33 e 17. Ma il 17 porta a sfortuna. A me no. 80, 75. Pulcinella! Brava amore! E per finire, il morto che parla. 48. Brava amore! Dai! Dai, che vinciamo! E tu che fai? Questa volta parlando una lezione qua, prendendo come riferimento i fumetti per fare...